è un video gioco sostanzialmente horror veramente inquietante una barbiera il gioco è stato prodotto dalla KanoArts dollari e 99 e sul playstation story a 11 e 99 praticamente è la storia di questo personaggio che attraverso un viaggio nella sua mente cerca di ritrovare se stesso e quindi vorrei vedere, vedete, inizia questa sorta di manicomio e inizierà il suo viaggio nella sua mente ho cercato di solare me libero da questa situazione fuori da lui da quelli che mi circondano e da questa prigione per il tema della prigione una prigione che può essere anche la propria mente facciamo iniziamo guardate su tipo un misto tra dobi di harry potter e gollum veramente inquietante vediamo r3 fare un po' di luce che cazzo che cazzo con il cerchio ci abbassiamo mentre con R1 si corre oddio che cazzo no vaffanculo sono morto si rinizio piccola sbista scusate non vedo veramente nulla qua la telecamera non è che sia delle migliori oddio oddio non c'è Roma mi accende la luce ragazzi questa è la prima trappola va 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 la prima idata eh ragazzi non so quanto quanto resistono oddio porca puttana e qui qui ragazzi che cazzo è un bordello grosso ragazzi un bordello guardate la telecamera un po' le pinze oddio che cazzo faccio non vedo nulla non vedo nulla oh mamma mia sono rischiate questo no eh ora no non voglio morire ora sono sempre giovane oddio che cazzo è che cazzo è che cazzo è che cazzo è qui cazzo è che cazzo è che cazzo è dobbio ovviamente assoluto molti anni fa criticato il fatto di che la telecamera non sia proprio il passo tra me piace così ora vi ragazzi inseriamo la nostra chiave dell'orologio che ci permetterà di trasformare ci vedete questo arterego che permette al nostro dobbio di accedere in dei posti a lui off limits andiamo avanti ragazzi oddio guardate ragazzi c'è gente squartata c'è della luce perché se no tengo paura mamma mia corri corri cappello guarda se la ride qui dove andiamo dove si va oddio questo gioco è morto non è che l'ha fatto oddio cazzo questo ah vabbè ah ho capito ho capito un po' 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 oddio non si vede un cazzo ah corretto lui no 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 buono buono ma che cazzo cazzo muori vabbè vai dobbio vai dobbio vai dobbio ma no che avevo visto qua c'era una sorta di cuore non so se è la vita ma hai bisogno di questo che gente qui si va nel cimitero abbiamo la nostra chiavetta è inquisante oddio ma qui tolgo indietro ah forse ho capito dio mio Io ora dove vado? Dove vado ora? Eh, che palle! C'è qui dove devono andare? Forse devono andare a luar. Che cazzo faccio? Ma dove vado? No! Oddio! Mamma mia, mamma mia! Uno dei classici tagli a fetta. Buttite le lame. Guardate là, guardate là che la vuoi. No, eh. Già, lo sapevo. Aspetta, è bruttissimo. L'occhio, l'occhio mangi. Mamma mia! Oh no, scappa, scappa, amici. No! Eccola via, sfiscia. Qui non vuoi dare, dai, mi sento. Che cazzo è? Mamma mia, ho fatto paura. Molto fedente. Ma chi è? Ma ho un mente calda. Oddio! Sembra... Quello di che ha reso. Beh. Ora mi ha basso. Ah, ora ho capito. Ora qui ci muoio, amici. Oddio! Scappa! Che c***o! Che c***o ti ha avuto. Vai, vai, vai avanti. Guardate, c'è la mano. Oddio! Oh, ragazzi, è la morte. Io ve lo dico. È la morte nera! Guarda dove cazzo. No, guarda là. La buca delle fate. Oh! Eh, qui ci muoio, qui ci muoio! Cazzo. No. Ma già là. Com'è brutto. È bruttissimo. È brutto! E ora vi ci caisco Mamma mia Mamma mia Apriamo il porto Porto Al porto, dio porto Mamma mia C'è un puzzo di bottino che ha pesto Oddio Ma che mi sto dimenticato qualcosa Ma ecco Guarda qui dove cazzo va Non ce l'ho da Ecco la via il bordello Oddio ma che cazzo va Cuore Trampi boh, è uguale vale la che la vuoi un soldo non è vero ma non è vero non è vero no, ce l'ho fatto amici devo andare a cercare boss e a tirarlo nella mia trappola mortale che cazzo faccio? oddio, dov'è? la merda là otti mamma mia che uomo l'uomo ha due teste, Gianna mi fronte mamma mia ma cos'è? oddio fatta puttana scappa 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 oddio tengo paura ma ma dove? ma dove? oh e ma è aiuto no 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 via via non ti chiudere non ti chiudere no Dio va lì Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Questa era dura eh ragazzi Guardate mille persi C'è la chiave Però la chiave La faccio Che bottino Mamma mia Mamma mia Bella Ti mando su campi elisi Eh guarda qui Qui è il bottello massimo Ragazzi Oh Diciamo finita La prima parte Diciamo Ah è un grande gioco Io ho me ne piace tanto Tanti l'hanno snobbato Però anche queste piccole E' veramente Un gioco particolare Poi vedete Cioè bianco e nero Però L'unico colore è il rosso Rosso sano Molto inquietante Cioè bianco e nero Cioè bianco e nero Mi sta supportando per questo mio primo gameplay in live Eccola lì Faccio la pittata No Mamma mia Oddio Vai Dobby Vai Dobby Vai Dobby Ragazzi qui in cordella Vai vai Oddio occhio alle bombe Nooo Vai Per il momento mi fa ripartire Ah un po' di Un po' di live Metticelo all'olio vai Ma sei una merda No 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 Oh Porca Pistana Oh Come cazzo faccio Via Ah Mi uccide Mi uccide Vabbè Io vado, eh, se un po' viene questo, no però sì dai sui prossimi piani ho sbagliato da qui poi in casino va vai dobbio vai dobbis brothers ma cos'è cristole dentro le video di gianni di devo fare paura paura vai piano dobbis vai piano dobbis attenzione ci vuoi dobbio poveraccio ma il litium ma come mai si chiama litium no come cazzo fa ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato capito devo prendere macista no me lo fa rifare un'altra volta ma la merda mamma mia mamma mia per fare le scale ci mette vent'anni ce la fanno meno questo sto partito potevano un po' velocizzare in effetti l'innovazione molto lenta non so come mai quali cazzo forse il corso verono l'innovazione l'innovazione forse il mate dirti no tanto scocca la mezzanotte amici l'ora delle streghe ci vuole maciste ragazzi vai maciste vai maciste vai maciste questo è il compito tuo che maciste che bello vai oddio non si vede un cazzo vieni qua vieni qua no oddio vieni qua mamma mia mamma mia mamma mia mi sono rischiato e ora vieni qua ecco vabbè c'era una bomba ah forse mi dovevo suicidare lì bello vuoi fare riparti da qua ragazzi che pari certo bo tutto il giorno poco allo stesso poverino poverino si però non va bene ragazzi si non va bene questo gioco ho di una difficoltà c'era non si potrebbe ripartire da qua che st le porte c c c ma bu non si potrebbe ripartire da qua vai maschiste vai vai maschiste che cazzo fai vai che no no si va fallati vai 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 veloce 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 ma vai scoda ma hai fatto il botto poverino forse ora ci si fa ora si eh però c'è sempre una bomba che faccio qui oh chi è ragazzi c'ho paura lì come faccio alla volta ma qui dove va oddio no 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 eh ma la c'è una merda non male riparte da qua ma dove vado ma dove vado no mi ditevi fare partita mi dicono che si chiama vinze a una grande viva bruttissimo bruttissimo oddio maradona ma che cazzo faccio ma non c'è paura ragazzo vincent o invece un poveraccio è trasformato in questo essere come faccio ma pass guardate l'ombra guardate l'ombra che dite che gioco mamma mia no non posso mamma io ho fatto paura ma che cazzo faccio non c'erano mai arrivato ma che devo portarti che è questa roba maradona oddio maradona maradona è meglio per lei oddio oh oddio cazzo cazzo vieni vieni dietro di buono vabbè seguimi è venato è venato zero seguimi è morto è morto ha 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 renato uno vai vincent vai trovo la tua libertà ritrova te stesso ma non mani o me è venuta guardate 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 troppe di staglore fatti fatti non parole mi amico fa ragazzi ragazzi è veramente un casino vado ora cappello abbassa cappello abbassati cappello abbassati dio mamma mia come sono andato a mano come sono andato amato c'ho paura tengo paura ma la doveva il meglio per lei ragazzi voi non sapete ma il meglio di pelle è male me l'hanno detto e qui come cazzo vieni ora qui ci muoio oh vabbè io volevo qui ragazzi che si inventa che si inventa qui ci muoio ma la lona e che cazzo mi ha venuto dietro povera merda vieni ora vieni ora vieni ora come faccio ma mi viene dietro ma è impossibile ah io lo aspetto qua no che cazzo ma non è mo vabbè ma dove lo posso lo posso dire se non muoio eh eh vieni ora dio buono vieni ora eccolo eccolo sentite come cavalca non mi dico che devo andare fuori ora il sangue amici il sangue eh ragazzi non ho un'idea di buono ma io voglio da una fiammata ma rimma ragazzi ah ragazzi non c'è non c'è amici perché non riesco a capire che lo devo far fuori devo essere in mondo oddio k piglia il tempo k piglia il tempo k piglia il tempo ooo è morto è morto bimbo 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 ora ci muoio io oddio nooo maremi che scuro peccato amici ce l'avevo fatta guardate guarda le ricette questo fetente infiniti 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 oh l'ammazzato l'ammazzato subito eh vabbè ragazzi e qui mi abbasso copia oh l'ammazzato oddio c'ho paura mamma mia mamma mia amici all'incovercio all'incovercio come dicano dalle mie parti io vado giù vado giù sto giù col bumbino bobino Oh, andiamo a avanti, andiamo a avanti Oh, andiamo a avanti Oh, andiamo a avanti Oh, andiamo a avanti E' lo spazio Eh, ma che cazzo de... Ho avuto un culo... Oh, andiamo a avanti E' rimasto fermo... Urtissimo... S'è... S'è frizzato... E ora? E' tutta merda, la vedete, vedete... Oddio, cosa rischia caffello... Cosa rischi caffello... Vai, Ercole... Dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Questo gioco è fantastico, ragazzi... Ormai... E' entrato nel... Nel ceppico Lithium, lithium Vai, Vincent, vai, Vincent... Vincent Price, Vincent... Ma qui c'è una scala, cazzo... E' zi... Che ce n'hai i bumbini? Sì... Mi è un bel modo... Visto? Vi lascio un mostro, eh... Ah, no... Che devo fare? Ma che sei? E là? Ma che fai? Ma... Ma no! Ci mette vent'anni! Ma è un impedito... Ma è un impedito! Col bulundi... Intanto mi suggeriscono questi... Questi saluti... Ah, bene, è bello... Che di me... Poverato s spazio lo saluta buruti si è mai detto che un oggetto ce l'ho già messo date la chiave la chiave la chiave di volta questo gioco è incredibile ma non salta più sul tetto non salta non salta sul tetto è un cretino ma è un cretino è un cretino vai Vincent scendi queste scale suggeriscono che somiglia molto a questo protagonista a un politico famosissimo della prima repubblica che ormai l'ha letto non è più tra noi poveraccio accidenta ma qui dove ma che cazzo faccio è un cretino è un cretinissimo è un cretinissimo infiniti e ragazzi la telecamera fa davvero schifo e qui come cazzo faccio non mi ricordo più dove devo andare guardate guardate che telecamera allucinante questo pezzo non mi piace è qui è qui è qui no andiamo dio bono come faccio non si può giocare così che telecamera è? dopo un po' veramente ti stripa ti stripa ti stripa anche se gravi esatto via cambia il quadraturo come faccio no ma perchè cambia il quadraturo stripa stripa come faccio come faccio ma un ecchio cambia tutte le camera vabbè è un angolo fisso è così ma no questo oh era strippato era strippata la telecamera è assurdo questo ciò però mi ci muoio no guarda io dove devo tornare no mia qui è un bordello qui me lo sai eh sì fa schifo perché avevo messo la telecamera in seguimento su su giocatore invece l'ha cambiata da sé improvvisamente perché devo fare no ecco qui è veramente un bordello qui è veramente un bordello vai cappello che bordello eh che bordello che da una parte sono più alti qui ce la dovrei eh sono morti eh che hai che ho Vai cappello, vai cappello Eh casino amici, casino Casino Ora provo ad andare di là perché Veloce, veloce, veloce No, no, non è che è qui Non posso esplorare Non è che è un mare Stiamo andando qui Un piccolo cieco, oddio Mamma mia, mamma mia Cos'ho fatto, cos'ho fatto Qui c'ho Qui ragazzi c'ho paura Qui c'ho paura C'ho paura Ma cosa è successo? Allucinato, qui allucinato Vai ora No, che uomo ragazzi Che uomo Ora mi feca Ora Ah vedi c'è la bomba Non l'avevo visto Da qui, da qui Qui giustamente poi c'è la chiave Allora Allora Che arriva nessuna bomba Mamma mia Mamma mia Mamma mia Qui Il bordello Bordello si può giù? Mamma mia Dio Qui spara Non è ragazzi Lo sparate Lo scelto E qui è un po' Diario perché Il primo Devo starbassi La seconda Rivali Sì Qui giallo Sì Lui Devo Il 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 mamma mia non so come ho fatto guarda che veramente mi ci muove vai Vincent siamo tutti con te mamma mia come sono arrivato in avanti ora vai un'altra chiave da prendere questo è un critico allora qui c'è la pistola questo di lui allora voglio affrontare lui con 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 la pistola a mani nude a mani nude a mani nude a mani nude dove cazzo è e lecame forza sovraumana la fatale non tornare dietro ecco cos'è no sei bruttissimo e ora è morto l'ho ucciso forse devo prendere la pistola quiù è il fetente guarda 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 la mia gualla pistola puoi controllare come si esbora? finito il tempo, vabbè, c'è di prova ah ma come si esbora? come si esbora? puraccio se ci vado così fa fuori forse si ma che pistola? lo faccio fuori anche a mano in mente no ma chi sei? questo fatto della telecamera è abbastanza penalizzato perchè proprio queste cose a tempo fanno perdere molti secondi guarda guarda, non c'è no, c'è solo ah, eccolo qui non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è oddio fai scappa bello scappa bello scappa bello no, vabbè ora devo usare big g no 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 che faccio più niente che faccio? ma quindi ho esaurito maschista visto? che c'è bene del dentista mi tengo paura grazie come faccio? Niente di niente amici. Vabbè, ci sono bloccati qua, nemmeno che non debba scondare qui, però, in questo fondo, qui non ce lo faccio, ok? Vieni, vieni, ma non mi seguono. Vabbè, amici. Ci siamo bloccati, ci siamo veramente bloccati. Qui non me lo da più. Che faccio? Vabbè, troviamo l'ultima volta, poi finiamo questa prima parte di Lutium. Continueremo domani. Questo qui, ragazzi, è veramente... Vabbè. Vabbè. Un abbraccio a tutti, alla mia fidanzata d'aria. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. 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 Ciao.